salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video con il dji tello oggi video esperimento per vedere fino a che altezza riusciamo a farlo volare ovviamente con l'extender sbloccandolo con la sua apposita applicazione in questo caso la versione per ios ma poi vi lascio il link anche per la versione dell'applicazione per android quindi adesso lo sbloccheremo intorno ai 40 50 metri e vediamo se tutto va bene e come si comporta ok ragazzi prepariamo tutto e proviamo il video esperimento ok andiamo a connettere il nostro extender che connesso andiamo aprire l'applicazione alte limite tello che quella che ci permette di regolare l'altezza quindi sbloccarla andiamo a impostarla a 40 metri ok facciamo apply ok applicato con successo e adesso siamo pronti per far decollare il nostro tello iniziamo a salire c'è un po d'aria non è vento però c'è un po d'aria quindi vediamo la stabilità del tello quando i sensori inizieranno a non leggere più il suolo vediamo che iniziamo a salire siamo a 23 metri 24 25 26 27 28 29 a 30 metri si è fermato quindi anche con l'applicazione sbloccata a 40 metri a 30 si ferma mi continua a uscire questa scritta però non capisco che interferenze ci possano essere adesso proviamo a sbloccarlo a 50 metri vediamo se cambia qualcosa ok applichiamo applicato con successo ok ritorniamo all'applicazione tello ok ma rimane sempre a 30 metri da non non riesce a salire più di 30 comunque anche sbloccandolo è sempre 30 metri non capisco questa scritta che continua a uscire che sono in mezzo praticamente al nulla e mi dice che c'è un interferenza nel wifi nel bluetooth però boh non riesco a capire come possa essere sono in mezzo al nulla però devo dire che la stabilità anche a 30 metri è veramente eccezionale perché anche senza i sensori che leggono il suolo guardate la stabilità del telo guardate le immagini come sono stabili e comunque a 30 metri c'è una delle turbolenze che non ci sono a 10 metri e per un oggetto come il tello che pede solo tanta grammi fanno la differenza in più ripeto c'è un po d'aria ok possiamo fare riatterrare il tello e tirare le nostre conclusioni ok ragazzi il video esperimento con il tello è finito direi che è andato bene ma non benissimo nel senso che a 30 metri si ferma anche se io l'avevo sbloccato a 40 e poi 50 però a 30 metri è stabilissimo anche se i suoi sensori non leggono più il suolo rimane stabile ma molto molto stabile c'è pure un po di arieta vi ho fatto vedere le piante che si muovevano e rimane stabilissimo avete visto anche un po di riprese video fatte a 30 metri ragazzi secondo me comunque nei suoi 80 grammi è eccezionale nella stabilità che ha e ripeto anche la fotocamera secondo me è eccezionale per le dimensioni che ha perché stiamo parlando di un oggetto veramente microscopico e che pesa solo 80 grammi secondo me quindi è andato bene però pensavo che si riuscisse a sbloccare oltre i 30 metri invece l'applicazione tra fa sbloccare ma lui a 30 mi si è fermato e più di 30 non è andato su quindi ragazzi come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ai prossimi video ciao